ecco buongiorno a tutti e come sapete oggi nel insegnamento di fondamenti di robotica abbiamo un evento speciale abbiamo infatti graditissimo ospite l'ingegnere Flavio Marani lo presento molto contento di presentarlo innanzitutto Marani è un lusso del Politecnico di Milano si ero reato diciamo qualche anno fa poi non la riceveva lui quando e attualmente è responsabile per Kawasaki Italia tutti gli integratori e costruttori ed è anche lo ricordiamo anche nel membro dell'advisory board del corso di studi in ingegneria dell'automazione quello a cui voi siete iscritti ecco al di là di questo Marani è una persona di grandissima esperienza nella robotica diciamo che ogni volta che in una fiera lo incontro anzi io non per caso ma perché vado sempre a trovarlo non sostenda è sempre una fonte di informazioni su che cosa bolla in pentola nella robotica a livello nazionale non solo e quindi io sono sicuro che vi trasmetterà la sua passione che non accenna come deve a diminuire negli anni su questa materia quindi io lascerei adesso la parola all'ingegnere Flavio Marani voi ascoltate intanto i partecipanti aumentano e poi Marani lascerà anche spazio per domande quindi magari appuntatevi le vostre domande non lo interromperei durante la sua presentazione e poi magari dopo lasciamo spazio a tutte le vostre domande prego grazie mille professore mi chiamo Flavio Marani e sono responsabile in Italia per la Kawasaki per quello che riguarda i robot industriali forniti a costruttori e integratori lavoro presso la filiale italiana della Kawasaki che si chiama TS Robot da 21 anni nei dieci anni precedenti ero responsabile tecnico commerciale della Fanuc Robotics dall'apertura che è stata nel 1990 mi sono laureato nel 1987 al Politecnico di Milano e sono un ingegnere comunicazionista mi occupavo dall'inizio di sistemi di visione per i primi tre anni e poi via via sono passato alla robotica ringrazio tanto il professor Paolo Rocco da avermi invitato per me è un onore e il professore come ha espresso diciamo dell'apprezzamento per quello che riguarda la mia attività parimenti e doveroso da parte mia esprima nei confronti del professore che è un riferimento mondiale nella robotica e anche molto stimato dai dalla Kawasaki direttamente in Giappone dove c'è addirittura una conoscenza tra il nostro presidente della Kawasaki industry quindi sia quella che sopravvede il settore avionica il settore industriale navale e anche quella robotica è il professor Rocco stimato anche nelle conferenze di robotica internazionale quindi per noi è una referenza oltre che un professionista estremamente corretto che presenta in maniera bilanciata e equilibrata i vari attori del mercato ovviamente non c'è solo Kawasaki c'è Kawasaki c'è Fanuc c'è ABB c'è Comao c'è Kuka c'è Yaskawa è un numero limitato di concorrenti che via via lavorano sul mercato spartendosi il mercato per quello che riguarda il settore automotive ed altri la mia non vuole essere una presentazione pubblicitaria semplicemente ho cercato di rispettare il tema della presentazione che è quello che mi ha consigliato il professor Rocco applicazioni problematiche più significative di robotica industriale diciamo che c'è la fortuna che quantomeno da dalla fine degli anni 80 è qualcosa che ho vissuto da quando sono stato il primo dipendente della Fanuc in Italia per i robot quindi era una fase che ancora copriva questi anni 80 che vedete ma farei un salto indietro 1970 ecco ho fatto un po' di storia della robotica magari sarà noiosa però però parliamo di applicazioni reali concrete delle applicazioni che ci sono sul mercato e che quindi all'uscita di un corso così valido ho letto anche le dispense e faccio i complimenti di nuovo al professore per la corrispondenza tra quanto trattato e quanto serve nel settore industriale oggi quindi ragazzi voi uscirete con una preparazione veramente pertinente e grazie appunto all'indirizzo accademico che vi è stato dato quindi la robotica diciamo effettivamente nel settore industriale comincia a trovare piede nel 1970 in verità per esempio Kawasaki ha iniziato a costruire il robot nel 1969 e con i primi Unimate per la saldatura delle automobili Toyota cioè saldare vuol dire manipolare una grossa pinza si chiama weld gun è un'attrezzatura che chiude con due pungoli così si chiamano facendo passare della corrente tra le lamiere la corrente fonde in quel punto la lamiere salda saldatura resistenza in inglese spot welding ho cercato per quanto possibile di usare terminologie italiane oggi si usano tante parole inglesi per quanto possibile comunque spot welding e effettivamente queste pistole di saldatura sono pesanti pesano 90 chili e quindi era chiaramente oneroso per gli uomini fare questo lavoro e in Giappone da prima dove la manodopera era un po' più scarsa eccetera hanno sentito questa esigenza ed ecco che il primo ingresso dei robot nel mondo dell'industria è stato nel settore automobilistico ovviamente l'appetito viene mangiando hanno cominciato a dire ma si può anche saldare come fanno i nostri saldatori saldare ad arco poi potete andare a verificare su internet cosa vuol dire MIG, TIG col MIG si apporta un filo di apporto che viene fuso col TIG si fondono invece le superfici poi c'è la saldatura plasma c'è la saldatura laser e quindi si è cominciato poi a coprire altri settori altra applicazione nel settore automobilistico dopodiché ovviamente bisogna manipolare le portiere sotto le presse di stampaggio sono delle grosse presse e può essere pericoloso caricare a mano una grossa pressa e comunque le lamiere sono pesanti bisogna esporsi verso il centro dello stampo e poi da una pressa bisogna passare a una seconda pressa pensiamo anche ai grossi stabilimenti negli anni 70 della General Motors a Detroit dove c'erano questi operatori che caricavano le lamiere difatti ad esempio il rapper fondamentale Eminem lavorava nello stabilimento General Motors in Detroit a caricare le lamiere sulle presse interprese da lì anche un'importante ditta italiana Komau ha realizzato anche dei robot specifici che si chiamavano Snap che erano dei robot dedicati all'interprese e così sono cresciuti diciamo i fornitori di questi tipi di bracci che appunto dapprima sono stati la BB, la Kawasaki, la Fanuc, l'italiana Komau la KUKA tedesca, la Yashkawa eccetera e ciascuno poi che ha cominciato a servire un costruttore automobilistico preferenziale per esempio Kawasaki da allora fino ad oggi quindi 50 anni segue Toyota, Suzuki, Ford, Fanuc invece segue Nissan, General Motors ABB, General Motors, Opel ed altri KUKA ovviamente che è nata in Germania, tutti i costruttori tedeschi quindi ci sono stati poi degli abbinamenti che hanno fatto poi crescere la tecnologia dei robot parimenti con tutte le applicazioni specifiche 1980, ecco i robot dal settore automotive sono usciti e hanno cominciato a essere usati nell'officine meccaniche e qua è quando ho iniziato poi a avere la mia attività nella robotica carico, scarico, macchine utensili ovviamente e poi è venuto in mente che si poteva smerigliare, sbavare, lucidare i metalli è abbastanza disagevole, vi garantisco andare a smerigliare i rubinetti che si chiamano miscelatori monocomando dei lavandini e delle docce che avete in casa delle vasche da bagno che si usavano magari un po' di tempo fa perché ci sono queste polveri che comunque sono tossiche quando si lucidano i metalli bisogna andare su delle ruote di cotone che devono essere imbevute di paste abrasive e non è bello piacevole stare sopra una ruota facendo degli sforzi, rischiando magari diciamo anche un danno fisico se il pezzo scappa respirando polveri con degli abrasivi anche lo scarico delle pressofusioni alluminio via via ha cominciato a trovare mercato negli anni Ottanta perché scaricare una pressa che stampa alluminio vuol dire andare a manipolare un pezzo caldo l'alluminio viene iniettato a 720 gradi e la stampata è attorno ai 200-300 gradi quando esce e poi bisogna spruzzare un fluido un liquido nebulizzato che si chiama distaccante che è un olio nebulizzato anche lì non è bello poi respirare questo aerosol di olio nebulizzato c'è l'aspirazione ma c'è anche il calore eccetera dopodiché lo scarico di presse plastica l'assemblaggio e anche la verniciatura sia con liquidi, liquido e quindi ATEX ecco vuol dire in atmosfera antideflagrante e con polveri ATEX poi può essere con base acqua o meno vedete che tutti questi lavori sono in gran parte dei lavori disagevoli per l'uomo e in verità io lavoro nella robotica ormai da più di 30 anni e devo dire che in generale i robot sono stati per la maggior parte installati in applicazioni che erano malsane per l'uomo e gli operatori sono stati poi impiegati in altre mansioni più umane perché? Perché i robot assolvono con efficienza queste lavorazioni sono più produttivi l'azienda va bene fa utile e si può permettere di mantenere il personale e muoverlo in altre funzioni che diciamo sono meno usuranti per l'uomo questo è un aspetto importante da tenere in considerazione 1990 ecco che allora si è cominciato ad andare al di fuori del settore industriale e vedere che tutto sommato che serviva anche pallettizzare e cosa vuol dire pallettizzare? pallettizzare vuol dire mettere delle scatole o delle casse di bottiglie o su dei bancali cioè la base per la manipolazione il trasporto diciamo di qualsiasi bene di solito è un bancale di legno non tutti sono di legno ma il 98% sono di legno che tipicamente in Europa ha una misura di 1200 mm per 800 si chiama Europallet negli Stati Uniti è 1000 per 1200 quindi immaginate questo bancale che avrete visto 100 volte anche all'ingresso dei supermercati quando arriva la merce questo bancale di legno però qualcuno deve mettere le scatole sui bancali di legno e il limite di legge per la manipolazione di uno scatolone o di un sacco è di 25 kg immaginate fare un lavoro carico di queste scatole casse, sacchi eccetera da 25 kg cada uno per tutto il giorno per riempire un bancale che può essere alto 1700 mm ovviamente è un lavoro poco umano e quindi ecco che sono stati impiegati largamente i robot nell'applicazione di palletizzazione da lì segue che poi è chiaro che la scatola va anche riempita prima e poi chiusa ed ecco in scatolamento prodotti confezionati cioè dove il robot non va a contatto direttamente con l'alimento ma c'è una pellicola c'è qualcosa che è in mezzo da lì appunto l'appetito viene mangiando ecco che si è cominciato a pensare ma io posso usare questi bracci anche per fare delle lavorazioni sui prodotti non confezionati cioè tagliare pramezzini che vanno tagliati ad alta velocità tagliare torte farcire torte e fare altre lavorazioni quindi si è cominciato dal 2000 ad avere delle applicazioni nel settore alimentare 2010 e gli anni passano 2010 farmaceutico a questo punto le aziende che realizzano macchinari per la produzione di farmaci hanno cominciato a dire ma posso usare il robot all'interno dei miei macchinari si faceva anche prima automazione in questi macchinari ma era un'automazione come lo diciamo più rigida cioè che era meno flessibile per il cambio di articolo o di lotto di produzione ad esempio quando si vanno a riempire delle fiale si chiamano vials con delle teste di riempimento quando c'è il cambio articolo se la macchina è pericolosa bisogna entrare con i guanti dentro questa macchina che è una specie di acquario che si chiama isolatore ma la manipolazione attraverso dei guanti di gomma all'interno di un acquario fatta dall'uomo è imprecisa per cui poteva esserci il pericolo di andare a estrarre questi aghi di iniezione nelle fiale toccare delle superfici e di seguito inquinare il successivo prodotto da un chemioterapico a un antibiotico e avere piccole dosi del farmaco precedente nel farmaco successivo un inquinamento del lotto produttivo magari non facilmente rivelabile ecco quindi che poi i robot hanno dato una miglior qualità di produzione di farmaci tipicamente parliamo di farmaci ad alta pericolosità per l'uomo mi chiamano come non sono farmaci per l'uomo certo però ad esempio un chemioterapico un radioterapico questi sono farmaci che diciamo devono essere prodotti ma d'altro lato sono citotossici come si dice per l'essere umano e quindi devono essere prodotti a macchina con macchine e meglio ancora con robot robot per la produzione di dispositivi medici è venuta in mente questa frase perché ad esempio oggi tutti quanti andiamo a fare il tampone il tampone il tampone che cos'è tecnicamente si chiama swab e viene prodotto utilizzando dei robot Kawasaki in una dita italiana che si chiama Copan è un tampone null'altro che un'astina plastica dove la parte di testa è ricoperta di peluzzi di nylon che però sono appiccicati irradialmente come funziona la produzione? il robot prende una matrice di 100 astine la intinge nella colla dopodiché infila questa matrice con le astine con la colla in una scatola dove navigano nell'aria dei peluzzi di nylon si chiama floccatura i peluzzi si appiccicano radialmente elettrostaticamente alla colla il robot estrae questa matrice la mette a pancia in su e la carica all'ingresso di un forno quindi i tamponi vengono prodotti con l'aiuto di un robot in questo caso Kawasaki robot per laboratorio di analisi ecco che in tutti gli ospedali sono impiegati dei robot per seminare le piastre di petri che sono le piastre di coltura batterica è logico che andare a seminare dei batteri estratti dal sangue o dall'urina che possono contenere bacilli tubercolosi o altre malattie è rischioso per l'analista meglio impiegare un robot in tutti gli ospedali cliniche al mondo oggi si usano dei robot all'interno dei laboratori di analisi tra l'altro un'altra azienda che realizza queste macchine sempre italiana ed è sempre la Copan con la sezione UOSP 2020 è anche qualche anno prima se vogliamo in questo caso grazie al Politecnico di Milano proprio al vostro dipartimento nella facoltà di bioingegneria con i vostri professori sono state realizzate delle applicazioni installate a Pavia al Cnau Cnau lo potete trovare su internet dove un robot Kawasaki in questo caso esegue l'attacca su dei pazienti prima di una radioterapia con particelle subatomiche generate da un sincrotrone e il tutto avviene sottoterra è vicino all'ospedale San Matteo di Pavia il centro si chiama Cnau è stato installato un primo robot che è operativo su 1200 pazienti all'anno e proprio in questi giorni è in installazione un secondo robot con una tecnologia diciamo di imaging più raffinata e questo lavoro francamente l'avete lo state facendo proprio voi quindi onore al Politecnico di Milano che anche diciamo viene visto come riferimento direttamente dalla Kawasaki in Giappone che ha una sezione di robotica medica ospedaliera che si chiama Medicaroid di fatti robotica chirurgica avrete sempre sentito diciamo parlare del Da Vinci che è questo robot telemanipolatore chirurgico ce ne sono più di una ventina installati all'IEO che in via Ripamonti vicino a voi che anche lavora in coordinazione con il Politecnico così come l'Humanitas la Kawasaki è entrata in questo settore l'anno scorso dopo 15 anni di ricerca sviluppo affinamento ed è realizzato un robot chirurgico che comincia a essere stato installato negli ospedali giapponesi ma esiste già una filiale a Dusseldorf una in California da più di 10 anni e poi una sorpresa robotica a bordo di navi da crociera perché a bordo di navi da crociera cominciano a essere installati dei robot che fanno i baristi li vedremo nella parte finale di questa piccola presentazione qui non vi annoio ma è giusto una carellata non per far pubblicità ma per dire qual è il range qual è la gamma dei robot al giorno d'oggi i robot antropomorfi sapete benissimo avete fatto questo corso così dettagliato approfonditi di cosa stiamo parlando ecco vedete il numerino 003 005 13 20 questi sono i chili che porta il robot porta alla flangia c'è poi il max reach il raggio operativo che è a questo punto il massimo raggio che riesce a raggiungere il robot tra l'asse numero 1 e l'asse 5 che è il penultimo per poter dare ancora modo alla flangia di dirigersi verso il pavimento o con altre giaciture man mano aumentano i chili man mano aumenta lo sbraccio ovviamente questa è una gamma di robot più potenti giusto perché sappiate che poi dei robot antropomorfi più grossi possono andare da 100 a 300 chili la serie che vedete con quei colori neri ha una particolarità che è il passaggio all'interno del braccio dei cavi e dei tubi per poter alimentare l'organo di presa e tutte le attrezzature come potete immaginare ma poi anche qua come dicevamo prima l'appetito via mangiando da lì le portate dei robot sono cresciute quindi ad oggi ci sono dei robot che portano 350 chili fino a 700 anche dei robot di portate extra alte che riescono a portare fino a 1500 chili sono dei robot che pesano 6500 chili sono stati impiegati anche in Europa robot per saldatura d'arco arc welding questi robot hanno delle particolarità soprattutto relative al software e agli allestimenti perché possono anche avere un comando del trascina filo del filo di saldatura a bordo robot e delle funzioni dedicate robot di palletizzazione questa è una cosa abbastanza importante interessante perché i robot di palletizzazione non hanno sei assi ma ne hanno diciamo tra virgolette quattro avete visto nel corso la ridondanza che c'è nei robot antropomorfi ecco questi robot hanno un numero di assi limitato e quindi non hanno la cosiddetta singolarità quindi data la quota riescono sempre a raggiungere la posizione ecco sono stati fatti ad hoc hanno dei raggi più ampi hanno delle portate interessanti e soprattutto una cinematica come vedete a doppio paralogramma nel caso superiori diversa in quello inferiore da 80 kg invece il doppio paralogramma è ottenuto virtualmente con il software in verità poi i motori sono 5 perché la serie CP ha due motori alla base per avere maggiore accelerazione e la serie RD invece ha due motori in testa perché mantiene il parallelismo della flangia col terreno elettricamente però virtualmente sono dei robot a quattro assi quando si vernicia bisogna avere dei robot invece che non esplodano perché l'atmosfera di verniciatura consolvente è un'atmosfera esplosiva quindi questi robot non hanno i connettori ma delle guaine pressurizzate lo scatolato interno è pressurizzato c'è una mandata un ritorno sono dei robot particolari che servono per verniciare tipicamente automobili ma anche altri oggetti di qualsiasi tipo in un'atmosfera deflagrante sono sempre di una serie diversa è abbastanza interessante il KJ 314 perché è un robot a sette assi dove i primi due assi sono alla base e questo aiuta per evitare le singolarità nell'ingresso all'interno della scocca automobilistica robot di pick and place questo è un robot delta come avete studiato nel corso li abbiamo noi ce li hanno anche i concorrenti ovviamente ogni fornitore di robot o quasi tutti hanno nel proprio range nella gamma dei robot questi robot ecco che c'è quello di portata 2 kg e quello di portata 3 kg con un raggio maggiore i bracci sono in fibra di carbonio nel nostro caso come vedete qui il motore per la rotazione dell'asse 4 è posizionato in testa altri modelli invece hanno un'asta con due giunti cardani quindi ci sono soluzioni meccaniche diverse da fornitore a fornitore robot medici e farmaceutici molto importante questo perché è un settore emergente ma non si può usare un robot normale perché serve un robot medico farmaceutico se notate questi robot hanno il foro all'interno della flangia sono tutti smussati arrotondati quindi c'è un passaggio coassiale dalla base dall'asse 1 all'uscita flangia in modo da non avere mai dei cavi al di fuori del robot inoltre le superfici devono essere lavabili con alcol e con acqua ossigenata detta in parole povere poi più tecnicamente con etanolo con VHP che vuol dire vaporasi di idroximum peroxide che poi è acqua ossigenata vaporizzata sembra che non faccia male l'acqua ossigenata ma è altamente corrosiva per l'alluminio eccetera anche l'ipoclorito di sodio molto corrosivo per l'alluminio ecco che questi robot sono l'ultimo modello l'MC05 è realizzato tutto inox invece l'MC04V è diciamo placato con cromato ma con una ricopertura ad alta resistenza il robot clean cos'è un robot clean? è un robot che non deve emettere particelle di polvere a questo punto a cosa serve un robot che non emette particelle di polvere tipicamente a produrre fette di silicio per l'elettronica in Italia abbiamo vicino a Milano la SGS anche in Sicilia ci sono vari stabilimenti nel mondo che necessitano la manipolazione di fette di silicio o di altri componenti in una atmosfera assolutamente pulita dove la classe di pulizia si misura misurando le particelle di polvere per metro cubo controllori kawasaki ma qui non vi annoio i controllori diventano sempre più compatti il controllore f comunque ha un'alimentazione monofase 220 volte assorbe 2 kilowatt quindi c'è anche un risparmio energetico i robot di palletizzazione nel nostro caso hanno il KERS cioè quando decelerano rigerano l'energia a questo punto diciamo ci tengo a far presente e a distinguere tre rami della robotica diciamo che è una distinzione che tra virgolette ho cominciato a cercare di fare io per distinguere tra la robotica collaborativa e la tradizionale e far vedere cosa c'è in mezzo la robotica tradizionale cos'è? ecco il robot che si trova qua dentro sotto la cappa questo robot di saldatura necessita come vedete di protezioni perimetrali per proteggere l'operatore ci possono essere delle barriere fisse delle barriere immateriali cioè delle fotocellule ci possono essere dei ripari mobili cioè delle porte e ovviamente se c'è una porta c'è una serratura di sicurezza con dei contatti tutta questa è tutto normato ed è la modalità con la quale si fanno degli impianti robotici c'è un sacco di norme ci sono da studiare da approfondire cos'è la robotica safe? la robotica safe è una via di mezzo tra la robotica collaborativa e quella tradizionale si aggiunge una seconda CPU al controllore detto in parole povere che monitora in tempo reale esattamente la posizione del robot e del suo tool e anche degli ingombri a bordo del robot imponendo ad esempio il fatto che il robot la pinza il prodotto non vadano mai al di fuori di una zona programmata programmata e certificata proprio perché c'è un secondo hardware che fa da controllore al primo in tempo reale è tutto certificato quindi se voglio la garanzia che un robot non vada mai al di fuori delle portazioni perimetrali devo aggiungere questa scheda hardware che poi va programmata in tridimensionale immaginerete che anche il gripper l'organo di presa debba essere programmato possa essere concavo possa essere convesso ovviamente l'applicazione Alcnau fatta dal Politecnico di Milano utilizza questa funzione perché in quel caso c'è una forcella che porta il trasmettitore e il ricevitore in mezzo c'è un paziente ci sono anche dei bumper sulla forcella e in più il tutto è fatto con questa scheda in più si possono anche limitare angolarmente delle zone l'uomo l'operatore può entrare in una zona intercettando le barriere mentre il robot lavora in un'altra zona questo consente di risparmare spazi per rendere più agevole il robot per l'operatore posso rallentare o fermare il robot quando entro in una zona volumetrica questo è molto comodo per non mettere barriere cancelli come nel caso qua a sinistra posso fermare il robot quando intercetto una barriera e poi lui riparte da solo posso garantire l'orientamento dell'utensile questo è molto importante ad esempio nel taglio laser magari con di mio YAG e il tutto è interfacciabile in doppio canale come si dice cioè in sicurezza con dispositivi esterni come scanner laser barriere e così via e con una circuiteria con 4 doppi canali nel nostro caso di ingresso uscita questa cosa ce l'hanno anche i nostri concorrenti quindi non è una prerogativa Kawasaki io faccio vedere le slide di quelli che sono i nostri prodotti ma sappiate che ABB Fanuc Kawasaki hanno queste funzionalità al giorno d'oggi c'è molta confusione tra la robotica safe e la cobotica ma va chiarito che la robotica safe è semplicemente questa cosa la cobotica vuol dire che il robot invece può entrare direttamente a contatto con il braccio il braccio non è nocivo per l'operatore in verità c'è una norma da rispettare che è la norma N15066 che impone una forza di contatto di 140 newton con un transiente di mezzo secondo impone delle pressioni specifiche perché è logico il robot può premere 140 newton ma se gli metto in mano una lama gli può nuocere quindi la pressione specifica anche sul transiente e poi ci sono delle zone dell'essere umano vietate essere colpite che sono tipicamente quelle sul cranio in faccia e nel nostro caso per esempio abbiamo questo prodotto che è un doppio scara avete visto cos'è una cinematica scara quindi sono due scara a monoblocco col carellino è chiaro che questo robot non arriva alla testa dell'operatore così anche lo Yumi dell'AVB altri possono arrivarci chiaramente un robot collaborativo non deve nuocere può lavorare assieme all'operatore nota però che poi tutto l'impianto deve essere collaborativo e quindi anche gli organi di presa i prodotti eccetera quindi ecco qua rivedete che c'è la robotica standard la robotica safe e la robotica collaborativa non sempre serve un cobot un cobot per natura va piano per natura è debole invece se vado con la robotica safe posso avere un robot potente che può andare veloce quando l'uomo è lontano e può rallentare e fermarsi quando l'uomo si avvicina quindi io vedo la robotica safe come un futuro nella robotica e lo vedrete tra qualche anno c'è poi anche la moda di portare in giro i robot antropomorfi asserviti con la scheda cubica S sia i robot collaborativi come in caso a destra Kobo sia dei robot normali su dei carrelli LGV è una come dire una cosa pioneristica ad oggi non ha trovato ancora largo sbocco conviene trasportare i componenti Kawasaki ha poi fatto una fortissima ricerca in quello che chiama il successor questa è stata una volontà del nostro numero uno che appunto è quello che è in contatto poi con il professor Rocco Joseph Hashimoto il primo progettista dei robot industriali del 1970 e l'idea è quella di programmare il robot con un haptic diciamo con un traduttore di forze e momenti retroattivo l'operatore usando questo manipolatore muove il robot sente la forza sente il rumore e in certe fasi critiche programma il robot per il resto è programmato normalmente è stato chiamato successor perché l'uomo istruisce il robot e poi il robot acquisisce il robot poi trasmette le informazioni ad altri robot notate che si può programmare un robot anche da remoto trasmette le informazioni ad altri robot e poi i robot stessi con l'intelligenza con le funzioni di intelligenza artificiale migliorano le loro performance e le possono ritrasmettere all'uomo in maniera retroattiva in modo che l'uomo poi un altro operatore impari quello che il robot ha imparato da solo capite che qua siamo molto molto avanti questa sembra ricerca accademica no tutto questo è realmente installato in Toyota su degli impianti diciamo con non disclosure agreement dove Kawasaki ha realizzato tutte queste cose quindi questo è anche una frontiera della robotica come vedete anche la curva di apprendimento del robot con funzioni di intelligenza artificiali quindi questo è un learning ma fatto dal robot e poi ritrasmesso all'umano francamente diciamo Hashimoto ha veramente uno sguardo avanti di un pezzo qua vedete il manipolatore che serve per la programmazione del robot anche per applicazione di verniciatura anche wireless e poi altra cosa diciamo ultima in questa prima fase i robot sono stati anche messi tutti in rete possono comunicare a dei supervisori periodicamente dei parametri per avere una predizione di guasto quindi questi diciamo supervisori in Ethernet monitorano in maniera costante tutti i robot e riescono a prevedere quale può essere un guasto che accadrà a questo punto venendo un pochino più sul pratico nelle slide ho messo un link per l'accesso alla nostra area riservata con username e password le password è fresca quindi vale per quattro mesi da maggio da qui potete scaricare il software per i nuovi controllori Kawasaki E ed F tutto questo è distribuibile utilizzabile una cosa importante visto che voi già nel corso usate MATLAB e simulatori robotici e complimenti questo è il simulatore tridimensionale Kawasaki si chiama K-Roset Kawasaki Robot Simulator ed è libero gratuito nella versione light ma ci fate già tutto lo potete scaricare con queste credenziali c'è anche un tutorial c'è il manuale c'è di tutto e poi c'è un ambiente di sviluppo software Kawasaki IDE vuol dire Integrated Development Environment K sta per Kawasaki liberamente scaricabile che automaticamente si aggiorna su internet c'è un ambiente di sviluppo classico che è il Notepad++ per il linguaggio Kawasaki AS che è scaricabile c'è il Terminal perché i robot Kawasaki sono naturalmente dei server e quindi potete sempre accedere a loro porre domande avere risposte scaricare programmi modificare vedere variabili quindi vi invito a provare scaricare e ovviamente trovate anche tutti i manuali e ho citato qua i manuali fondamentali in modo che non vi perdiate nella merida di manuali in italiano in inglese ovviamente è importante il manuale del linguaggio AS è il nostro nome del linguaggio è una specie di basic non è complesso è un linguaggio ad alto livello quindi naturalmente avete anzi ho visto che già nel vostro corso avete analizzato dei linguaggi avete visto schesura e programmi poi c'è il manuale operatore per l'uso della tastiera ai robot virtuale che parte con il K-Roset è identicamente uguale al robot reale potete selezionare tutta la gamma Kawasaki manuale IO esterni serve per i collegamenti di ingresso e uscita manuale Fieldbus perché poi oggi come oggi i robot si collegano quasi sempre con dei bus di campo e qui vi descrive quali sono come sono configurabili manuale TCPIP perché a giorno d'oggi i robot si collegano normalmente in Ethernet a computer a sistemi di visione a sensori di forza e momento per cui è importante vedere anche la connettività del robot in TCPIP e anche in UDP server e client manuale delle opzioni di moto che sono tante sono degli argomenti avanzati da approfondire diciamo che per chi ha voglia qua c'è di tutto per proseguire avendo questi strumenti poi ecco vi ho dato come dire dei compiti per le vacanze che poi ripercorrono delle cose ben viste molto ben analizzate nel corso come quella che nel nostro gergo chiamiamo singolarità voi avete visto che c'è la ridondanza in questi diciamo robot antropomorfi infatti voi potete installare il simulatore tridimensionale selezionare un robot antropomorfo e poi verificare l'esecuzione di traiettorie in ciclo automatico perché il robot può essere in modalità manuale quando lo muovo con la tastiera è automatico quando eseguo un programma se voi cercate in ciclo automatico queste sono cose che sapete già avrete già provato ma potete risperimentare con questo simulatore a passare a eseguire un moto lineare vicino alla singolarità per esempio una singolarità tipica è io la chiamo asse 5 uguale 0 gradi che vuol dire asse 4 allineato con il 6 provate a passarci con traiettore lineare vedrete che cambia configurazione se ci passa proprio proprio si ferma dice in singularity a questo punto troverete c'è anche una singolarità più strana più rara che è l'allineamento dell'asse 1 col 6 mentre il 4 col 6 si trova ovunque nello spazio l'1 col 6 si trova soltanto nella semiretta che parte dall'asse 1 e poi va verso l'alto quindi è un po' difficile prenderlo perché bisogna allineare la flangia con l'asse 1 e questo però è possibile ed è anche interessante verificare i vantaggi del movimento ibrido sul manuale c'è scritto che se mi trovo attorno a questo punto posso invece che l'lmove usare l'hmove che consente di svincolare il movimento ingiunto attorno alla singolarità d'accordo però poi il pezzo si muove un po' e qua c'è una cosa diciamo avanzata ma per chi di voi ha voglia di sperimentare lo trova sui manuali è possibile su un robo Kawasaki se ci sono dei vincoli al contorno sapete bene di cosa stiamo parlando asse 4 uguale a 0 quindi un vincolo angolare e flangia parallela alla base a nota noi usiamo gli angoli di eulero come avete visto nel corso non tutti usano gli angoli di eulero ABB usa i quaternioni Kawasaki usa gli angoli di eulero Fanuc usa gli angoli di eulero ecco quindi se ho il vincolo asse 4 uguale a 0 e la flangia prea la base e il comando che si dà in linguaggio a s aligne se impostate questo switch che è un setting basta dire pal mode on a questo punto il robot non esegue più la classica trasformazione di coordinate 6 per 6 ma sa che c'è una riga in meno c'è un asse in meno ci sono dei vincoli sugli angoli di eulero e in questo caso sparisce la singolarità in pratica è come trasformare un robot antropomorfo in un robot di paletizzazione cioè imporre due paralogrammi cinematici virtuali capisco che possa essere un argomento avanzato ma sappiate che questa è una cosa che realmente si usa nella paletizzazione con antropomorfi avete poi analizzato molto bene nel corso il fatto che la ripetibilità differisce dalla curatezza in posizione questo è molto importante perché se voi passate quote al robot un conto è muovere il robot con la tastiera e memorizzare posizioni un conto è trasferire quote e quando trasferite quote funziona l'accuratezza se invece memorizzate come si dice in autoapprendimento funziona la ripetibilità ma l'argomento l'avete analizzato in maniera approfondita nel corso quando si eseguono delle traiettorie la ripetibilità non è quella della posizione ma è la ripetibilità durante le traiettorie che è peggiore ecco perché ho scritto se fate un cut cam cioè dal disegno tridimensionale volete che il robot esigua una lavorazione allora a questo punto sappiate che l'accuratezza in traiettoria di un robot antropomorfo non è il massimo della vita il robot non è una macchina utensile non si costruirebbero più frese centri di lavoro si userebbe un robot invece in traiettoria hanno dei limiti e quindi a questo punto potete verificare i limiti in traiettoria e poi se fate del cut cam dovete ricevere una quantità altissima di posizioni migliaia decine di migliaia fino a milioni a quel punto non potete riempire la memoria allora dovete mentre il robot funziona continuare a ricevere dati in internet con un task parallelo il Kawasaki è anche multitask quindi può esserci un processo di comunicazione che scorre sotto che continua a ricevere i dati cioè i dati di posizione dei punti da raggiungere avanti e questo deve essere eseguito ciclicamente sono degli argomenti utili importanti che poi possono servire anche come magari delle basi per dei lavori futuri di laurea cose che sono già state fatte però sono argomenti che francamente servono all'industria ieri mi è capitato un costruttore di macchine nel settore calzaturiero di Vigevano che deve fare un'applicazione in deposizione colla su delle suole di scarpe in cut cam con queste modalità quindi possono essere delle applicazioni che sembrano astronomiche ma sono molto più vicini alla vostra realtà poi c'è anche la presa con sistemi di visione 3D per prelevare pezzi da cassone qui la difficoltà non è vedere in tridimensionali i pezzi ma capire come il robot può uscire dal cassone senza andare in singolarità e quindi è utile avere un software che riesce a capire in parallelo al moto del robot se lui sta andando in singolarità per capire cosa fare e magari aggiungere un asse ausiliario sull'organo di presa quindi un settimo asse per avere quell'inclinazione in più che mi consente di non andare in singolarità sensori di forza e momenti certo ci sono i sensori di forza e momenti esistono come avete visto nel corso ma spesso questi sensori vengono collegati a un computer in Ethernet il computer parla al robot e il robot corregge la chiusura di questo anello porta via tempo e il robot non è reattivo questo è un argomento forse più ancora da eseguire che eseguito ad oggi è importante usare questi sensori ma leggere direttamente questi dati con un task parallelo dal controllore al robot per avere una velocità di chiusura di questo loop questo è forse più un argomento di sviluppo che un argomento attuale certi di questi argomenti sono argomenti la singolarità è importante che sappiate cos'è che la ripetibilità differisca dall'accuratezza è importante sappiate che le applicazioni in CAD CAM sono importanti e che la visione 3D sta prendendo piede ma ha delle proprie problematiche e relativamente alla sensorizzazione del robot che molto lavoro deve essere ancora fatto ma soprattutto nell'interazione tra i sensori e i controllori del robot qua l'ultima slide qua sembra una foto fantascientifica invece questi che vedete qua piccolini sono null'altro che due robot Kawasaki normali che erano nella lista di prima RS07N dei 7 kg di raggio 730 mm installati collateralmente a un busto rotante su una struttura che va su una slitta avanti e indietro e questo barista è a bordo della nave da crociera virtuosa MSC che è stata varata due settimane fa e sta eseguendo la prima crociera come diciamo al McDonald's si fanno gli ordini su questi touch panel c'è poi un monitor che visualizza l'avanzamento dell'ordine il robot parla racconta le sue cose prepara il cocktail e poi gli operati diciamo i clienti poi si possono servire questa è una presentazione generale magari nei dieci minuti avanzanti cercherei di farvi vedere due video e poi lascerei spazio alle domande lascio la parola un attimo al professor Rocco va benissimo Slavio benissimo grazie mille adesso condividi faccio vedere pure un po' di video e poi alla fine lasciamo se ti ricordi devi fare viene meglio se fai condivisione invece che fare ottimizza per testo immagini che è un menu a tendina fai ottimizza per video e c'è anche possibilità di includere l'audio perfetto e poi a questo punto devo selezionare o condividi lo schermo che vuol dire la prima cosa che ti propone ferma uno per esempio questo riuscite a vedere perfetto abbiamo una decina di minuti allora in questi dieci minuti andremo avanti una carola anche di più anche di più Slavio è tanto comunque noi dobbiamo chiudere per mezzogiorno più o meno quindi anche se lasci un po' meno di mezz'ora di domande gestisci pure tu va bene sì perché magari ai ragazzi interessa vedere queste applicazioni concrete esatto volevo sparare i tempi ma adesso la parte più interessante perché si vede veramente quali sono le applicazioni allora vediamo un po' se funziona il tutto Kawasaki vediamo Kawasaki ok questo è carino Unimate vediamo se lo vedete lo sentite anche vediamo se lo sentite lo sentite si questo è adesso questo è Movietun Leslie Mitchell reporting a robot for industry unimate 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 che può reach out to 7 feet e perform a multitude of tasks in factory o laboratori as skillfully as a man but without getting tired è controlled by a built in memory system che può lead it once through the required motions e può repeat 24 hours a day week after week it can position objects to within 50 thousandth of an inch completely unaffected by heat cold fumes or dust it could take over a lot of unpleasant jobs it can operate unattended for 500 hours originally developed in the States it is now being made in Britain and this was its public debut have one with me not 1969 quindi da lì è nata la robotica qui vedete brevemente andrò via un po' rapido un video pubblicitario giapponese e andrò e e e e questo è il nuovo robot farm si vede la finitura soprattutto con dove siamo arrivati robotica standard ok io partirei con vediamo se ho ecco una classica applicazione a Grazie a tutti. 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 Preparazione. And action. And cut. Pochi secondi di video per una preparazione così lunga, un robot su rotaia con tre assi ausiliari per andare a gestire lo zoom, il fuoco e altri parametri della telecamera. Questi sono i robot. Grazie a tutti. Robotica standard. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vedete quante applicazioni. Guardi, vediamo. Inotori. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e qua vediamo. Grazie a tutti. MSC. Andiamo a tutti. E' molto carino. anche il testo. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti.